Nonna aiutami, mi servono i soldi per un avvocato. Così il finto nipote telefonicamente aveva convinto un'89enne invalida pensionata di Via Piave ad Avellino avversagli la cifra di 3.800 euro. Il piano però è saltato. Due truffatori di Napoli, un 53enne e un 35enne, sono stati tratti in arresto ad Avellino dai carabinieri della stazione di Cagliazzo e della compagnia di Caserta. Gli autori del raggiro sono stati presi con le mani nel sacco, in fragranza di leato. I due truffatori infatti non si erano accorti di essere pedinati e tenuti sotto stretto controllo dagli investigatori. Il loro modus operandi, tra l'altro, era un cliché per i carabinieri in possesso di alte segnalazioni prevenute sulla coppia di malfattori. Dopo averla presa di mira, uno dei due truffatori ha chiamato a telefono l'89enne e presentandosi come nipote le ha chiesto una somma di denaro da versare a uno studio legale per concludere urgentemente un'operazione bancaria. La nonnina è stata abilmente al gioco, ma quando i due malviventi si sono presentati a casa della vittima per riscuotere, i carabinieri sono entrati in azione facendo scattare le manette ai polsi dei truffatori. Il finto legale e il falso nipote in cerca di aiuto sono stati così tratti in arresto dai militari. Uno dei due era in auto ad attendere il complice con il malloppo soffiato alla nonnina. Il bottino della truffa è stato restituito all'anziana. La nonnina ha così ringraziato i carabinieri per averla sottratta dal giro che stava per costarle la pensione.